Salve a tutti ragazzi e bentornati qua in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard ragazzuoli come abbiamo detto qualche video fa con la conclusione della promozione di Halloween già si sarebbe cominciato a parlare della nuova stagione di Supercard, della stagione 6 ed infatti è così ragazzuoli perché proprio ieri è cominciato già a uscire qualche primo qualche prima novità di quello che avremo già dall'inizio della prossima stagione quindi ragazzi prepariamoci perché veramente manca poco oggi che sto registrando questo video è il 2 di novembre, domani andrò in vacanza quindi per una settimana non credo di avere possibilità di registrare Supercard però comunque sul canale usciranno altri video va bene e comunque beh ci tenevo a fare questo video giusto per mettere un po' in chiaro le cose perché ci sono già tante novità su quello che magari ci sarà a breve e penso che la stagione di Supercard comincerà, vediamo un po' perché abbiamo una specie di leak qua già nelle ricompense perché se andiamo a vedere, già dal negozio abbiamo 10 giorni di ricompense quindi direi che l'aggiornamento possa esserci benissimo fra i 10 giorni ovvero comunque a metà novembre come sempre è successo intanto come vedete comunque abbiamo questa promozione delle carte Hall of Fame, Retro e tutto quanto il resto di livello Sam Slam e va bene però raga cominciamo col dire che le prime tre novità sono queste non sarà un reset del gioco come già successo con la stagione 2 quindi raga state tranquilli, tutte quante le carte più o meno che avete le terrete anche per la prossima stagione altra novità, quasi novità già me lo sospettavo è che le carte sotto il livello bestia ovvero andiamo a vedere tipo nello specifico ed eccoci qua sul filtro e allora quest'anno le carte cominciavano dalla rarità Temprato in su avendo appunto eliminato tutte quante le carte della stagione 2 che andavano dalla carta comune fino alla Sam Slam quindi ragazzi quest'anno con la nuova stagione andranno ad eliminarsi le carte sotto il livello bestia quindi Sam Slam 17, Wrestling Mania, Ultimate, Elite e Temprato andranno appunto nella rarità Legacy faranno parte appunto con le carte della seconda e prima stagione questo perché ragazzi adesso le nuove carte saranno bestia, adesso non abbiamo mostro ma comunque beh bestia, mostro e titano che sono le prime tre categorie ovvero bestia sarà il nuovo livello Elite e il livello Temprato mostro è il nuovo livello Elite e titano il nuovo livello Ultimate quindi titano sarà appunto la carta che ripristinerà il draft board prima di tutto e poi dice qui comunque con l'inizio della nuova stagione visto che siamo a novembre in pieno appunto evento di Natale comunque nel giorno di ringraziamento abbiamo appunto di nuovo la promozione di Goblet the Gooker di nuovo probabilmente o con una camera di fusione o qualche evento vedremo comunque altre cose che vedo che praticamente ci saranno dei bilanciamenti su tutte le carte penso quindi non so quali saranno i parametri reali della prossima stagione quindi se andremo oltre il milione 502 milioni oppure verranno ribilanciati anche questi valori e questo comunque lo vedremo appena cominceranno a uscire tipo le prime carte anche perché sì questo è già stato detto è già stato ufficializzato diciamo cominceremo la nuova stagione con nuovi tre livelli di carte quindi andremo ben oltre fin da subito come è sempre successo con altri tre nuovi livelli io comunque sotto in descrizione vi lascio anche il link diciamo al teaser trailer della nuova stagione ci sono comunque altre notizie ufficiali ci sono comunque un centinaio di carte nuove e questo va bene l'unica cosa che mi stuzia veramente la curiosità è questa nuova meccanica delle carte pro Beyond Pro con un nuovo livello di carta quindi non so se magari potrebbe essere una cosa per me viene in mente tipo delle carte pro fatte con più copie della stessa carta questo anche perché è già successo anche in passato più e più volte che la gente si sia lamentata della troppa rarità nel trovare carte del proprio livello quindi andando a bilanciare anche questo fattore diminuisci la rarità quindi più facile trovare carte in draft board del proprio livello però ne servono più di una copia per fare appunto una carta pro quindi hai più possibilità di trovare comunque una carta del tuo livello un draft board per esempio però te ne servono comunque più copie per formare una carta potente di livello pro o comunque un nuovo livello pro che ci sarà appunto una nuova stagione e questo comunque è interessante interessante perché comunque verrà rivoluzionata una meccanica che c'era fin dalla prima stagione quindi beh anzi dalla seconda stagione visto considerato la prima stagione non era cioè era una pro tranquillamente fattibile con il livellamento della carta senza l'allenamento dei match quindi era ancora più semplificata diciamo altra cosa ragazzi adesso vado direttamente sulla pagina ufficiale così ve lo leggo anche in italiano così ve leggo tutto quanto il changelog ufficiale ragazzuoli che più o meno è stato ufficializzato nel teaser diciamo e poi sicuramente avremo notizie più più accurate più avanti sicuramente comunque quello che intanto il gioco ci dice comunque gli sviluppatori di Caddy ci dicano è questo qua Supercard stagione 6 come già detto comincerà questo novembre quindi abbiamo detto che potrebbe cominciare già tra 10 giorni oggi è il 2 quindi intorno a metà novembre dovrebbe esserci appunto l'update definitivo con tutti quanti i bug e quant'altro perché aspettiamoci sicuramente qualche cosa perché va bene ci saranno sicuramente dei piccoli problemi o comunque qualcosa che all'inizio magari non funzionerà ma che comincerà a funzionare appunto nel tempo quindi vabbè non preoccupiamoci non preoccupiamoci di questo perché comunque allora eccolo qua per iniziare il sistema di gestione delle carte verrà semplificato riprogettato quindi sicuramente avremo un nuovo catalogo magari un metodo di ricerca o più semplificato anche se comunque già quest'anno era molto semplificato cambierà anche il sistema pro per permettervi di creare carte più potenti che mai e questo è quello che abbiamo fetizzato prima quindi o un nuovo livello cioè un nuovo metodo di fare il carte pro con più copy della stessa carta o magari una cosa totalmente rivoluzionata in un altro modo magari con degli upgrade presi in degli eventi magari non so che c'è il più buon evento per portare a pro una carta anche se già c'è teoricamente re-indomination prendi la prima copia l'altro evento prendi la seconda però magari potrebbe essere cambiato anche questo vedremo e includeremo anche ben tre nuovi livelli a partire dal giorno dell'uscita e questo abbiamo già detto anche prima tre nuovi livelli che ancora al momento non ci sono i nomi però staremo a vedere sicuramente questa settimana sarà settimana dedicata alle carte wall of fame e le carte quelle retro e una nuova promozione che già c'è la missione e già penso da metà settimana o dalla prossima secondo me già si comincerà a vedere anche i primi leak le prime immagini delle nuove carte nuovi livelli quello che dice e che mi fa un po' paura sinceramente vogliamo che la stagione sei vi catturi per il doppio anzi il quadruplo del tempo quindi ragazzi questo mi fa paura perché già gli eventi che ci sono presenti adesso nel gioco ti dovrebbero tenere sveglio anche 24 su 24 potresti giocare anche la notte praticamente potresti far giocare anche il gatto e il cane per riuscire a prendere certe carte e giocarti certi eventi e questo nuovo aggiornamento questa nuova stagione ti sarà incollato ancora di più insomma ho delle piccole paure però comunque vabbè vorrà dire comunque ci saranno sicuramente più promozioni più cose da fare più eventi molto più intrigante il gioco quindi infatti dice abbiamo già cominciato a muoverci in questa direzione al termine della scorsa stagione dopo la Velvete in Dream Experience e la promozione di Halloween che abbiamo detto anche negli scorsi video con questa quinta stagione abbiamo visto degli eventi anche in background molto divertenti e sinceramente che ti davano insomma motivo di giocare questo gioco più del tempo necessario più del tempo dovuto è la rotta che vogliamo mantenere d'ora in avanti solo con meno problemi e frustrazioni firmate i rambini rabbit quindi vabbè darsi magari qualcosa che abbia a che fare magari di piccare su qualche cosa che appare nello schermo ora c'era il rambini rabbit c'è stato perché c'era Defend ma potrebbe esserci qualcos'altro vediamo un po' potrei aspettare tantissimi conteni esclusivi a tema e perché no anche nuove meccaniche di gioco con una certa regolarità questo mi fa pensare che appunto ogni mese con gli eventi poi ci sono anche in WWE quindi saranno molto più sincronizzati con il gioco e la WWE proprio stessa saranno degli eventi a tema ovviamente con gli stessi eventi che già conosciamo magari qualcosa anche di più ma anche degli eventi in background come abbiamo avuto con la Velviting Dream Experience e anche con il Friday Night's Backdown con Battista e Undertaker carte poi ovviamente Limited Edition ogni mese qualcosa da trovare in draft board di speciale di raro di ultra raro veramente da portarci a casa in qualche modo promozione di Halloween vabbè potrebbe essere benissimo una cosa come Defend una camera di fusione nascosta cose varie da prendere in qua e là però vabbè camera di fusione con questo riferimento già ci sono state anche con altre promozioni quella di primavera estiva quindi vabbè non la conterere troppo insomma inoltre vogliamo dare alle vostre idee al vostro feedback lo spazio che meritano e questo è quello che dicevo prima probabilmente tutto quello che i giocatori sono lamentati che insomma hanno detto in vari anni probabilmente finalmente verremo un po' accontentati con questa sesta stagione in qualche modo anni successi che ha dovuto senza il vostro aiuto e la vostra guida appassionata infatti c'è vogliamo approfittare della stagione 6 per perfezionare il più possibile il gioco secondo i vostri consigli sappiamo delle vostre preoccupazioni riguardo Over The Limit Android The Giant insomma attraverso i feedback stanno ulteriormente costantemente migliorando anche i vari eventi abbiamo visto anche il cambio radicale del primo evento Over The Limit con Boogie Man e il secondo che servivano appunto quasi la metà dei punti quindi insomma già un cambio c'è stato il primo era molto impossibile il secondo era impossibile ma comunque fattibile per i giocatori di livello per i giocatori che nerdano veramente veramente tanto frustrazioni riguardo i tempi di attesa in pvp quindi magari quando trovi i giocatori reali in pvp magari i tempi di attesa erano migliorati meno bug cose varie che vi trasmesso il messaggio che il sistema delle carte della squadra aveva bisogno di una sana ristrutturazione e infatti avremo dei team più grandi quindi bigger team infatti di champion trail perché probabilmente da 10 giocatori in team probabilmente saranno o 15 o addirittura 20 nuovo metodo delle carte in squadra probabilmente verranno ottenute più di 3 carte verrà rimodellato appunto anche il deck delle carte in squadra e probabilmente anche la chat le motion e tutto quanto il resto nella stagione 5 abbiamo cercato di semplificare il gioco e riportare le sue origini per aiutarvi a diventare più competitivi più rapidamente ultimamente ragazzi abbiamo avuto soltanto dei flash event con probabilmente carte pro su pro su pro infatti io ho un deck completamente al 100% a questo punto visto in questo video adesso vedete andremo a farci anche di guerrero per quanto riguarda Geofardi non credo mi manca ancora qualche match ma di guerrero è pronto dopo ci facciamo la pro una volta stabilita questa base vogliamo continuare ad aggiungere funzionalità meccanica e tutto quello che ci chiederete stiamo costruendo qualcosa estremamente divertente e lo stiamo facendo insieme insieme sviluppatori e tutti noi giocatori insieme e nulla questo diciamo era il changelog che al momento è ufficiale sulla pagina ufficiale di twitter e supercard sicuramente tante altre cose arriveranno perché dice tanto qui è tradotto con i piedi però questa settimana avremo supercard vintage le carte holofame e quindi giovedì retro sono disponibili in un tempo limitato questo sicuramente farà parte sia del throwback che c'è sempre stato nello store ma farà parte probabilmente di una promozione che troveremo appunto carte holofame e retro anche nel negozio gratuito o probabilmente anche in draft board non lo so partecipa alle speciali missioni holofame giovedì retro che già abbiamo a livello holofame avremo un nuovo evento flash ring domination e roto glory e 50% di sconto su mescolamento carte cosa vuol dire mescolamento carte devo guardarlo in inglese perché questo è stato tradotto male probabilmente un 50% su pacchetti in generale probabilmente mescolamento sarà mici da 1 6 pacchetti diciamo troppo di sì per quanto riguarda la stagione 6 questo qui e tutto quanto il resto signori e quello che volevo dirvi che dice praticamente che la promozione ovvero quello che riguarda le nuove caratteristiche della carta pro probabilmente già le vedremo da questa settimana perché mi sa che ci metteranno qualcosa che ci faccia più o meno imparare le nuove caratteristiche le nuove funzionalità non lo so quindi staremo un po' a vedere almeno dicevo sì le upcoming promo will offer a chance to try out the beyond pro system which is early today quindi sì probabilmente la promozione che arriverà proprio adesso o in questa settimana o forse all'inizio della prossima prima dell'avvento della prossima stagione riguarderà appunto questa nuova meccanica delle carte pro e ragazzi io non vedo l'ora potrebbe essere veramente una cosa molto molto carina intanto andiamo a farci la pro ecco per esempio qui abbiamo anche tre re misterio se è come penso io potremmo magari creare un re misterio con tre carte io al momento me lo tengo anche perché se vado a combinare le carte ancora mi da la scelta delle altre due quindi per il momento lasciamo perdere però andiamo comunque a farci eddie guerrero non dovrebbe cambiare assolutamente niente eddie guerrero abbiamo due intanto li sblocchiamo siamo al 100% i gettoni li abbiamo dati uno e l'altro pure adesso controllo perfetto allora facciamoci la pro di eddie guerrero così mettiamo l'ultima stellina d'oro nel nostro deck e il nostro deck a questo punto è al 100% pronto per la prossima stagione andiamo ad allenarlo ovviamente ma tra l'altro nella missione poi l'aulofame ho trovato king corben che mi dà forza al mazzo quindi non mi serve a nulla allora perfezionamolo vediamo tutto quanto probabilmente anche nuove meccaniche per livellare le carte quindi gettoni e quant'altro saranno già rivisitate dalla prossima stagione anche questa cosa sarà da vedersi sicuramente ci saranno più livelli da fare più gettoni quant'altro visto che le carte cresceranno ancora quindi staremo un po' a vedere allora mettiamo l'immagine quella della hall of fame questa qua e questo signori è il nostro eddie guerrero 100% giocherà gli incontri per il resto della stagione e va bene raga staremo un po' a vedere io questa settimana sono in vacanza quindi vabbè giocherò al minimo su supercard e vedremo un po' se ce la farò a vedere insomma le nuove meccaniche o riuscirò a fare qualche missione intanto qui vediamo un po' mi manca ancora un po' di roba devo completare un po' di robetta lì lo faccio non c'è problema e niente raga ditemi sotto nei commenti cosa ne pensate voi dell'avvento la presa una stagione di questo insomma che avevo appena detto vi lascio comunque il link in descrizione per vedere anche da voi tutte le meccaniche il teaser, il trailer e tutto quanto il resto ditemi la vostra opinione qua sotto nei commenti e quello magari pensate che possa essere questa nuova meccanica delle carte pro e nuovi livelli delle carte e tutto quello insomma abbiamo detto in questo video io vi invito a lasciare comunque un bel like se vi è piaciuto noi ci vediamo come al solito al prossimo video ragazzoni ciao a tutti ciao a tutti